preso bel lavoro vince vediamoci su quella torre è passata già un'ora da quando è che giocavo? minchia adesso del tempo allora allora saccheggia creccia saccheggia fucile allora sulla torre adesso la trovo ancora questa scala di prepper usa i cavi attenzione compagno hanno pisciato nel letto ripeto hanno pisciato nel letto chi parla? come sei arrivato su questa frequenza? non ho tempo per spiegare ma il tuo bunker è compromesso devi agire in fretta moledizione sono a casa di Boyd mandate un elicottero e ci penso io preparati a pedinare dice segui quell'elicottero a casa di Boyd lascia salire il bersaglio e fatti portare dritto dal mago di Oz ricorda anche se mi fa ridere dirlo questa è una missione pacifica solo sorveglianza non attaccare il bersaglio salvo ordini diversi ecco l'elicottero puntualissimo se hai una tuta alare puoi lanciarti dalla torre e seguirlo altrimenti ho visto un quad che potrebbe fare al caso tuo ora muoviti ok ok wow ancora lì il quad e io devo seguire i cavi dai cazzo mi piace così sto cosa non va mi sto usando il quad forse ma oh che cazzo ma fa un volo sicuro faccio un volo nooo chi è sta casa quella oh ferma ferma lascia che il nostro uomo prenda l'elicottero ricordati che dobbiamo ancora scoprire dove nasconde il nastri qualunque idiota con un bastone può fare waterboarding lo spionaggio è ciò che ci separa da quelle bestie segui no? quindi allora sali su ma dove va? scende giù allora adesso oh ecco dai 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 eh quello di oltre se mi sta andando ma sai che ci sono i massi? eeeh 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 che rinni lino lando no? non possiamo permettere che quello svitato abbia di che ricattare il comandante in capo e io modo che cazzo devo andare ma che troia si io modo che ho passato in mezzo ma come cazzo faccio a passare qua in mezzo ecco ma vuoi dire che io no 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 ah lì si è fermato là questo cazzo si è fermato là ok vice è arrivato il momento del bastone quando a terra ripulisci la zona stiamo cercando un supporto fisico probabilmente un vecchio nastro VHS io sto arrivando fammelo trovare oh cazzo e magari sei quello stronzo guarda dove va devo spararlo adesso guardi scusate l'elicottero è contro ma scappa almeno ah dopo posso guidare l'elicottero io ah chi lo sa pilota allora era russo interagisci pure aspetta in casa non c'è niente da prendere aspetta in casa non c'è niente da prendere che sei trovato leggi basta c'è solo questo corazza il bagno con la granata forse ha munizioni ma c'è già tutto e mo porta il nastro a Willy a Willy ok qua mi spiace ho altro da fare e all'improvviso questa rivoluzione boscaiola è ben al di sotto delle mie competenze una volta in America la parola data era sacra ma oggi viviamo in una nuova America so che volevi qualcosa da me ma è così che funziona mi ricorda una cosa che mi diceva sempre mia nonna metti i desideri in una mano e caga nell'altra vedrai quale si riempie prima ah mi manca ci si vede in giro una R15 sgombra una stanza più velocemente di un IP che non si lava da un anno via da un IP che non si lava da un anno che paragoni allora vediamo un attimo dove devo andare che vado lì e e salvo praticamente perché è inutile sai che cazzo c'è qua invece ah fammi vedere un attimo qua cos'è usa i cavi ah guarda la roba guarda l'attenzione eh nascondendo i desiderami per la resistenza sali su e se mai cazzo si pilota la doblano allora allora eh sa ah oh che miseria ma cos'è che è allora green bush fertilizer avamposto della sette addirittura non è non è tanto difficile ma c'è un lanciafiamme ma tu sei scemo di quello con il lanciafiamme non è Wow! Lo scopo il tuo figlio! Oh! Che drò è giù il fogo! Oh! Ne scopo il tuo tutto! Scappa, scappa! Si chiapa il fuoco tutto qui E' una puzzola eh? Puzzola, puzzola, dove è? Ah, non lo vedo più. Ma per pazienza io devo fare spaventare questo. Ah, io mi allontanerei. Guarda che miseria. No, ancora un altro. Un altro con lanciafiamme in mare. Madonna, santissima. E' esploso... E' esploso quello in faccia. E' anche ma... Con sto fuoco. Ma non esplode! E' che cazzo? Vabbè, è pieno. Boh, non lo so. Usa i cavi e mi dice qui, no? Ah, qua. Ma che senso usa i cavi? Da un punto non penso che possa salire. Da qui invece? Oh, lì rompe il cazzo che riesce a salire. Qui no, però. E' guarda. Devo fa parkour. Vaiiii. E' insieme, ma? Ma come cazzo c'è di volso? E' un osso? Dovresti sapere che non puoi nasconderti oggi? Mi sei sicuro un osso. Ma trovi persone che non puoi nasconderti oggi. Ma trovi persone che non puoi nasconderti oggi. Vedi? E' qui? Che è successo? Avevo letto qualcosa tipo X era ampia forse. Guarda che altro che è via 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 via. C'è... Però può salire? Pum, è che la paura del... Maffa di culo, penso. Antilocapa e ne squaiate. Un altro punto tratto fatto. Ah, il paracadute rifatti va. Perché era così alto per il paracadute? Ma io... Non so come cazzo sa lì sopra. Eh, nella zona della ricerca ho capito che è lì. Aspetta un attimo. Qua invece... Non sale qui? Ce ne riesce a salire su un tubo del... Del cazzo. Qui non c'è cosa per salire. Cioè scusa, segui i cavi, segui i cavi. Eh... Ah, capito. E come salgo? Sempre lì stiamo, eh? Oh... 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 VICE! Se ti trovassi a corto di contanti, il modo migliore per far soldi in fretta da queste parti è andare a caccia. C'è un sacco di gente disposta a pagare bene per carne o belli. Pelle di lupo preso. Rimaniamo sempre sul solito punto. Io come salgo. Cade giù. Cade giù. Cade giù. Non cade giù. Scusa, segui i cavi, no? Ma mire, davanti a me c'è la stazione quella lì. Ma mire, usa i cavi, usa i cavi. Eh beh, certo. Per lui va tutto bene, usa i cavi. Ma che cazzo? Tocca un po' un colpo. Ma sono tornato praticamente... Ancora qua? No, lo prendi! E' la roba. Oh, vedi! Oh, no, no! No. Morto. C'era il bazooka in mano. Ah, ti rendi conto che il bazooka in mano stava? No. Ah, c'è. C'era una fissa. Ah, non ci sono stato, o si? Boh, un idiot. Si. Eh, usa il cavo. Wiiiiii! Ovvio, fuoco il cavo. Ma che miseria. No, ci sono i cavi lanciamissili. Usa cavo. No! Non ho mica capito cos'è successo. No, non ho mica capito cos'è successo, però. Cosa cazzo è successo? No. Perché sono morto? Bah. Non lo so. A capire perché sono morto. Cioè, doveva, doveva aggrapparsi a quel cazzo di, di cavo lì. Boh, non, non l'ha preso. Boh, non lo so. Un altro gioco per deficienti. Mi dire che muove un altro bug. Che palle ho. Tutti i giochi che ho preso, solo bug ho incontrato. Speriamo che meno. Speriamo che meno. Che sia risolto. No, vabbè nel cazzo di cavo che sta di nuovo prende. Allora, vai giù. Vediamo se lo serve e basta. Eh. Lo dovevo osservare perché sennò il coglione dice, no, non lo prendo, poi si può cadere giù. Boh. Ho capito. Vabbè. E mo? E mo m'attacco perché non c'è più il ponte. Che culo. Ma c'è se che arrivi veramente giù. Vabbè, lo vuoi. Mamma mia. Oh. Ma sei scemo. Stai perché è di sotto. Che posto. Usa cavo. Ok. C'è una corazza. Ma vedi, questo subito l'ho trovato. C'è una rivista. Molti soldi. Electric Blastic Cam. Come hai inventato il piano? Ma che cazzo ancora, eh? Ah, il cavo. No. E mo? Ok. Andiamo via. Dovevo andare a fare una cosa. E se mi desse la mappa, posso? Ok. Devo andare qua. Io vedo questo e ho finito. Ok. Ma che cazzo. No, puri. No, no, curi. Dietro io non ci vedo. Ora si. Chi è morto? È morto. No, mica capito. Chi è morto? È morto. È morto. È morto incivile. Ma che cacchio ne so. È morto incivile. Ma che cacchio ne so. Ma che cacchio ne so. Ma che cacchio ne so. Ma chi è? Faccio un'altra volta quello che è. Devo far questo e poi... E poi staccare. Che non so che di sono Sì, lo deve sattar Sti cazzo di occhiali Che si scuotgano sempre Non c'è quello che lancia il missile di questo, sei giudato Ma te sei pazzo Non c'è mai l'altro No, sti facendo le giù Pure L'ho preso sulla gamba, non è morto Preso Ma che cazzo È volato giù, ci godo No, non l'ho più Oh, che cazzo Ma che cazzo è? No, ma questo non ci fa nessun lanciamissili Aspetta Allora Madonna Si ma l'ho preso Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? No, vabbè è possibile Ma è vabbè, gli ho sparato un missile addosso Oh, ma che è? No, ma è possibile Oh, che cazzo è? Oh, ma che cazzo è? Noi armi disponibili, no. Ah, è un male. Con voi è armato nella pallata. Io ho venduto un po' di armi. C'è un po' di roba che c'è qua. Leggi. Sì, lo puono. Grazie a Dio c'eri tu. L'assetta nasconde armi nell'impianto di stoccaggio. Le abbiamo cacciati e preso la loro roba. Quel posto è conteso da sempre. Bravo. Proprio un gran bel cane da cazzo. Dei spai. Che dicevo. Allora, negozio. Vendi tutto quello che c'ho. Per 3.000. Oh, che droia. Per 3.000. Pelle di puzzola. Pelle di puzzola. Ok. Avanti lo capra. Di cervo. Di osso nero. Carne rovinata. Vabbè. Cos'è? Pelle rovinata, ma al solito. Pelle di puma. Pelle di lupo. Una trota. E le due mappe. Sì. Tutti gli oggetti vendo subito proprio. Che... Cos'è che mi ha sbloccato? Mica capito. Orchè, droia. Ammazza chiodata. Mannigano non c'è? No. Non c'è, cazzo. Ammazza con più lo spinato. Boom. Sui denti. Vaffaculo. Ah, però la pistola la posso sbloccare. Come personalizza? 65547. 65547. Maneggevolezza di più è questa. La P226. Pistola affidabile. Acquista. Eh, sì. Bravo. Skin prestigio. Ma sei scemo. Ah, e i mirini. Siliziatore vorrei. Che cosa cambia? Ah, mi il silenziatore è silenziato. Ok, caricatore. Estiso. Vai. Ce l'ho i soldi. Sì. Così è stato... Non... Quello tipo platine, cazzatine varie, andava anche bene. Un attimo, io ho l'arco, no? Non lo posso... Ah, posso personalizzarlo pure? Vampiro. Cazzo cinta. Schifo. Il mirino redotto. Ah, gli aumenta... E io che cazzo c'ho su? Ma pensavo... Pensavo ce l'avessi già il mirino. Buh. Vabbè. La leggevolezza, ma la toglie. Dice scusa. Gli la fiorna è arrivato. Tipo questo, no? Se io vorrei personalizzare questo fucile... Ah, però... Cazzo. Tieni... Ok. Tieni sempre l'arco. Mettigli questo e sei a posto. Vado a sbloccare il tratto, perché io l'arco non voglio togliermelo. Oggetti, abbigliamento... Non penso abbia sblocato chissà che. Sì. Vedece. A parte che non me lo fa... Non me lo fa... Munizioni. Senti. Vediamo. Oh. Arco invece ho... Finalmente. Guarda, ho completamente un altro... Tipo di mirino, finalmente. Ok. Prego che la vice Hudson torni sana e salva. Nessuno merita di essere catturato dall'Edensgate. Ah, sta rossa anche staccare. Volevo vivere in una scatola di cartone. Come un barabone finito. Uiii. Aspetta, fatemi un attimo questo, così provo a vedere un attimo com'è. Ah, è l'anicottero. Oh, la madonna. Ma si gira... Ah, si gira quasi del tutto. Guarda i colpi. Che entro e dentro e escono subito di là. Ma mi li lascio a terra? Non penso. Un attimo. Ma infatti no, li lascio a terra. Guarda i colpi che... Sì, le munizioni infinite. Perché... L'insetto è fuori controllo! Che cazzo... Perché c'è sta musica? Ah, perché arrivano i nemici? No, guarda che cosa una sventolona! Ma adesso, l'ultima volta, l'ultima volta. Ok. Ora posso staccare. Allora la prossima. Allora la prossima.